Meghan Markle è stata elogiata per un atto di gentilezza umana durante un discorso chiave all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa settimana, la duchessa del Sussex si è unita al principe Harry all'evento a New York, dove il duca ha tenuto un discorso in onore di Nelson Mandela. Ci sono stati molti momenti speciali per la coppia durante l'evento, incluso Harry che ha dichiarato Meghan la sua anima gemella. Ma per i fan reali c'è stato un semplice atto di gentilezza di Meghan che si è distinto sopra il resto, in una clip. Condivisa sui social media, i Sussex stavano ascoltando uno dei discorsi chiave. All'improvviso, una donna nella fila dietro di loro ha iniziato a tossire. Senza esitare, Meghan si avvicinò e le offrì una bottiglia d'acqua. Chiocciola Rani of Justice ha condiviso il video, twittando, offrire la tua bottiglia d'acqua a un'altra donna che sta tossendo mi dice più del personaggio della duchessa Meghan, di qualsiasi libro di successo scritto su di lei. Un altro ha bollato la mossa come un atto di gentilezza umana, anche Chiocciola Debra Zentrattino Basso Ussi ha condiviso il momento, dicendo di Meghan. Sempre gentile e premurosa. Un altro ha aggiunto, la duchessa del popolo. Sempre così consapevole dei bisogni degli altri. Durante il suo discorso alle Nazioni Unite, Ferri ha condannato la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di annullare la sentenza Roe v. Wade e la ha definita il ribaltamento dei diritti costituzionali. Ha detto, dall'orribile guerra in Ucraina al ritiro. Dei diritti costituzionali qui negli Stati Uniti, stiamo assistendo a un assalto globale alla democrazia e alla libertà. In un momento straziante, il duca ha rivelato quando ha capito che Meghan era la sua anima gemella e dove si sentiva più vicino alla sua defunta madre, la principessa Diana. Ha detto, da quando ho visitato L'Africa per la prima volta a 13 anni, ho sempre trovato speranza nel continente. L'Africa per la prima volta a 13 anni. Un'altra parte per la prima volta a 13 anni. Un'altra parte per la prima volta a 13 anni, ho sempre trovato per la prima volta a 14 anni. Un'altra parte per la prima volta a 14 anni. Grazie a tutti.